Come lo scorso anno in Cagliari-Parma. Io ho lo stesso pensiero che ho avuto l'anno scorso in Cagliari-Parma, cioè che questa sia la partita della svolta per il Cagliari che veniva sì da un momento positivo dopo la vittoria contro la Sampdoria, arriva il terzo successo stagionale in campionato per la squadra di Mazzarri che vince la sua seconda partita di fila andando appunto a conquistare il secondo successo Calasalingo in campionato, 2-1 contro il Bologna. E come c'è quel Cagliari-Parma, anche in questo caso la vittoria è arrivata negli ultimi minuti, nei minuti di recupero grazie al gol di Gaston Pereiro. Amiche ed amici appassionati di grande calcio, buonasera e benvenuti su Monero Spocciano e ragazzi. Posticipo della ventunesima giornata di Serie A, giocato lo sapete martedì a causa delle problematiche Covid del Bologna. Scusate, inizialmente lo sapete non trattiamo noi le partite diciamo delle squadre non di più piano della Serie A, chiaramente soprattutto addirittura solitamente abbiamo fatto soltanto Juventus e Milan che sono le squadre che tifiamo rispettivamente, io e Ciccio. Però ho voluto fare questo post partita perché la partita l'ho vista, perché avevo un interesse particolare che era quello del fantacalcio, poi nel video del fantacalcio vedrete tutto quanto. E diciamo che questa partita è stata decisiva assolutamente per le sorti del fantacalcio. Parliamo del match. Allora, primo tempo abbastanza noiosetto con il Bologna che forse ha giocato leggermente meno del Cagliari, il Cagliari l'ho visto un po' apatico, però il Cagliari che ha l'occasione migliore del primo tempo con Bellanova che da pochissimi passi scaglia il pallone sul palo alla sinistra di Skorupski, praticamente Skorupski battuto, quindi un gol mangiato da Bellanova. E secondo me questa vittoria chiaramente ne aveva molto più bisogno il Cagliari rispetto al Bologna. Bologna falcidiato dal Covid, che ha una formazione praticamente diciamo abbastanza obbligata. Considerate che aveva una panchina veramente incredibilmente così va. Il Cagliari non è che se la passi meglio, perché il Cagliari ha anche le sue problematiche. Ha Keita Baldè assente, non ha nessuna punta al di fuori di Pavoletti, quindi non se la passavano. Molto bene queste due squadre. Chiaramente importava più al Cagliari di portarsi a casa la partita rispetto al Bologna. Però questo Bologna riesce a passare in vantaggio con Riccardo Orsolini. Riccardo Orsolini che fa un gol su punizione clamoroso, bellissimo al 54esimo minuto. Un Riccardo Orsolini che in questo mese dove manca Barrow che sarà assente per la Coppa d'Africa dovrà dimostrare di valere il posto a titolare nel Bologna oppure di farsi vedere per poi farsi cedere chiaramente dalla società. Per quanto riguarda la traiettoria, fantastica, fallo che c'era e punizione a bersaglio di Orsolini. Dopodiché, diciamo, per i primi dieci minuti dal gol di Orsolini che è venuto al 54esimo, il Cagliari, io l'ho visto un minimo non rinunciatario, ma gli ha tagliato le gambe tantissimo questo gol. Però pian pianino ha iniziato ad avanzare, ha iniziato a schiacciare la difesa bolognese e diciamo che, tra virgolette, possiamo dire che il gol era nell'aria. Il gol arriva grazie ad una zampata da grande attaccante. Remida, Leonardo Pavoletti, secondo gol consecutivo. Un gol, diciamo, anche abbastanza sporco perché veramente il tiro cross di Pereiro era completamente sballato, ma lui riesce ad essere al posto giusto al momento giusto, ad avventarsi su quel pallone e riusciendolo a spedire in rete con uno Skorupski che non poteva fare assolutamente niente. A questo punto ci sono dei problemi, degli infortuni. Purtroppo Pavoletti esce per infortunio e per farvi capire i problemi offensivi del Cagliari, al posto di Pavoletti è entrato Zappa che è un centrocampista perché non avevano alcun attaccante in panchina. Dall'altra parte si fa male anche Orsolini e rientra in campo dopo tantissimi mesi davvero il grandissimo Falcinelli. Falcinelli. Comunque, ci sono occasioni da una parte e dall'altra, però la zampata nei minuti di recupero la ha il Cagliari. Assist di Joe Pedro verso Gaston Pereiro che davvero mette la zampata andando a sorprendere Skorupski sul suo palo, portiere polacco, forse abbastanza responsabile di questo gol. E ragazzi, il Cagliari si porta a casa una vittoria di importanza vitale perché andiamo ad aggiornare rapidamente la situazione di classifica delle due squadre. Il Bologna, con questa sconfitta, scende al 12esimo posto con 27 punti in classifica. Vi ricordo che il Bologna però ha una partita in meno, quella che deve giocare contro l'Inter. Mentre invece, per quanto riguarda il Cagliari, con questa vittoria fa un balzo incredibile. Si porta a meno uno dalla zona salvezza rappresentata dal Venezia, 16 punti per il Cagliari, 17 per il Venezia che però ha una partita in meno. Quindi, davvero, con queste due vittorie il Cagliari si rilancia assolutamente e inizia adesso un nuovo campionato. Vedremo un po' come saranno le gerarchie di questi due giocatori perché Orsolini e Povoletti sono dei giocatori che in stagione hanno subito tantissimo la presenza di altri giocatori che gli hanno preso il posto. Vedremo se in questo gennaio, con i loro, diciamo, competitor fuori in Coppa d'Africa, se potranno dare un contributo importante alla causa della propria squadra. Già Povoletti ha fatto vincere una partita e mezzo a questo Cagliari. Vedremo che cosa saprà fare anche Orsolini. Io detto questo ho terminato questo video, spero che vi sia piaciuto, se fosse così la descrizione, condividete il video, 16, 16, pagina extra, la moniello sport, un po' tele, la moniello sport, 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 la moniello sport. Ecco ragazzi, noi ci vediamo un prossimo video. Ciao belli!